Aspetta aspetta Però ti deve venire subito Non è che ci devi pensare Sei l'oggetto più raro e prezioso Che si possa recuperare Grazie a svidani Anusca Anosca Niente mamma mia Anosca Grazie di questa Cos'è? Dai Amici miei Adesso Lo stiamone un altro e poi andiamo su Roblox Qua c'è già la modalità che aspetta Si è entrata anche tu? No non ancora E cosa?